Nascono purtroppo delle polemiche carissimi amici di Pausa Caffè dopo le parole su Giulia Tramontano al programma Domenica In, quello sì, di Mara Veniero. Durante l'ultima puntata del programma di Rai 1 la zia Mara si è rivolta direttamente alla mamma di Alessandro Impagnatiello, cioè l'uomo che ha fatto fuori praticamente la 29enne, quella incinta di 7 mesi di cui si parla, su tutti i dg, tutti i giornali in questi giorni. La padrona di casa di Domenica In, ad inizio trasmissione, ha guardato in telecamera e ha detto alla mamma di Senago dicendo «Vorrei mandare un abbraccio alla madre di Alessandro. Signora, lei ha fatto un'intervista in cui dice «perdonatemi perché mio figlio è un mostro». «Sì, signora». «Sì, assolutamente sì. Suo figlio è un mostro». Parole che chiaramente hanno creato un polverone di polemiche sui social, come sempre accade in questi casi. Chiaramente il messaggio della zia era un pensiero indiretto a Giulia e al piccolo Ciagiu, una forte condanna del gesto, niente di più. La conduttrice Rai ha infatti voluto citare la famosa intervista della donna rilasciata alla vita indiretta. «La critica chiaramente è stata la solita, avrebbe potuto evitare», commentano in molti sui social. Ma perché? Le tante critiche sono infatti state mosse sulla scelta delle parole, non sul messaggio. Tanti utenti allora hanno voluto esprimere tutta la propria contrarietà con commenti del tipo «Giusto le parole che voleva sentire», o «Madonna mia che sensibilità». Uno addirittura scrive «Ma è impazzita?». «Poteva risparmiarselo questo commento», scrive un utente su Twitter. Il colpo di scena arriva poco dopo, ovvero quando la zia si rende conto che forse le sue parole sarebbero potute essere malinterpretate. Così, poco prima della fine della trasmissione, Mara Venier guarda di nuovo in camera e dice «Non volevo essere critica nei confronti della famiglia di Alessandro». «E ancora, signora, se ho sbagliato, chiedo scusa, io sono vicina alla famiglia di Giulia Tramontano e alla famiglia Impagnatiello». «Ripeto, se ho sbagliato chiedo scusa». D'altro canto, se in molti l'hanno criticata, altrettanti si chiedono se davvero fossero necessarie delle scuse. In effetti, a definire un mostro l'Alessandro Impagnatiello era stata appunto la madre durante la famosa intervista. La donna si era disperata e aveva descritto il figlio proprio con quella parola. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like, e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, oh è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.